bolo cinque minuti sono da te ci sono ci come già fatto l'evento ma non era due giorni già finito l'evento fatta la cosa della spiaggia il video è già uscito stai con noi allora lo guardiamo il video dell'evento e e e e e e e Grazie a tutti Benvenuti a Milano Marittima per la sesta edizione della Pro-Am Day Event Iniziata ieri con una giornata un po' insolita diciamo dal punto di vista golfista Una partenza shotgun ore 9 con 36 squadre provenienti da tutta Italia Per poi esportarsi al Papete Beach Un evento molto insolito che contraddistingue la nostra Pro-Am ormai da sempre Dopo il contest al Papete Beach siamo tornati al Gratic of the Series per la cena di gala Si conclude oggi la seconda giornata di Pro-Am con le classiche 18 buche e la premiazione a seguire Io vi ringrazio ancora tutti i partecipanti di essere presenti A voi che ci avete guardato e vi do appuntamento al prossimo anno a Cerga Grazie mille, ciao! Egeproduzione è una società che ha sede a Rimini e che ha due core business Uno è quello dei grandi eventi, corporate, dove il minimo comune denominatore è la presenza di un broadcaster televisivo E da 5 anni a questa parte abbiamo intrapreso questa avventura nell'ambito del branded entertainment Dove realizziamo programmi per Mediaset, per Skyart e ci accingiamo a farlo anche per altri grandi broadcaster televisivi Poi ho colto l'occasione per iniziare questa collaborazione con Andrea Bolognesi Che è un giovane molto promettente nell'ambito dell'organizzazione di eventi golfistici Questa Pro-Am ne è la dimostrazione con tanti imprenditori che arrivano da tutta Italia Con tanti prestigiosi industriali presenti E la nostra struttura è sempre presente quando si tratta di grandi imprenditori Di grandi investimenti e di eventi che hanno una connotazione importante a livello nazionale o internazionale E la nostra struttura è la nostra struttura